salve carissimi amici tuttubi sono francesco bentornati nella soffitta di camera mio benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla sì l'anno scorso per natale effettivamente mi ero vestito in maniera natalizia per fare il video di natale quest'anno non c'ho voglia fondamentalmente ma 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 oggi il 24 dicembre oggi il 24 dicembre e per l'appunto vi volevo lasciare con degli auguri auguri a tutti quanti voi alle vostre famiglie a voi che siete dall'altra parte di questo canale youtube che vivete la vostra vita quotidiana auguri a tutti quanti buone feste buon momento per stare insieme con i propri cari i propri familiari i propri amici e quant'altro vi auguro quindi delle buonissime feste di natale noi io almeno personalmente mi prenderò una pausa forse rallenterò un attimino la produzione sulla base anche di quanto riuscirò a leggere durante le feste perché durante le feste io non leggo niente di solito perché ho altri ritmi altre cose che piacerebbe fare ma ci lasciamo con una buona storia di natale perché ho recuperato lo sapete già qualche tempo fa la grande dinastia di papere di carl barks l'opera omnia che vedete qui alle mie spalle tutti i video e per questa occasione per questo natale ho voluto leggere e recuperare una storia che della quale avevo sentito parlare da tantissimo tempo e che non avevo mai realmente letto aspettando forse un momento giusto un momento opportuno che per l'appunto è quello del natale la copertina di questo volume si non si confà troppo al natale e sinceramente non ho letto nulla se non le note di introduzione alla storia principale di questo volume alla storia che dà il titolo anche al volume ovvero sia paperino natale sul monte orso perché perché voglio parlarvi di questa storia un po perché è natalizia avevo letto altre storie di carl barks di natale ma mi sono detto ok magari ci posso fare qualche altro video in un secondo momento ma il natale sul monte orso è una storia diventata famosa e passata alla storia del fumetto disney e non se vogliamo perché è la storia di esordio di un certo di un tale non so se lo conoscete scrooge mac duck altre si noto come paperon de paperoni e la storia comincia proprio con una scena intanto vi faccio vedere qualche immagine di questa storia con un paperone cinico anziano chiuso nella sua villa che odia il natale è nei fatti il prototipo il prototipo del personaggio è proprio quello di scrooge della fiaba di dickens il canto di natale e quindi odia il natale odia stare insieme agli altri odia un sacco di cose però si rende conto si affaccia all'idea che da solo non può farcela da solo non è bello stare ha voglia ha bisogno di compagnia è proprio in virtù di questo che metterà alla prova i nostri protagonisti ovvero sia paperino e i due nipotini qui e i tre nipotini qui qua e li invierà sul monte orso dove c'è una villa una villa dove c'è ogni ben di dio ogni possibilità la possibilità quindi di passare un una bella festività ricca di cibi e quant'altro con la differenza che de paperone vuole testarne il coraggio vuole vedere se paperino e nipotini possono essere dei degni eredi per la sua eredità e da qui in avanti cominceranno tutta una serie di gag perché in maniera anche piuttosto inaspettata alla villa alla casa di paperino e qui qua qua arriveranno degli orsi degli orsacchiotti che creeranno tutta una serie di situazioni classiche dei cartoni animati dell'epoca quindi molto molte gag molto fisiche molto visive molto divertenti anche adesso nonostante siano passati più di 70 anni con un finale che devo dire mi ha sorpreso in positivo era una storia che vi anticipo già non avevo mai letto come vi ho già detto in realtà più volte ma forse ne ho letta la sinossi forse ho letto qualche storia che riprendeva questa storia qui nello specifico quindi sì ho avuto un forte senso di déjà vu ma allo stesso tempo nonostante questo nonostante sapessi che la trama prevedeva che i nostri eroi andavano in questa villa che i paperoni avrebbe messi alla prova e quant'altro non mi so non mi aspettavo il finale di questa storia nello specifico un finale che vede davvero dei colpi di scena interessanti con uno zepo perone che cambia radicalmente aspetto modo di vivere modo di pensare cambia radicalmente e assorge quasi ad un ruolo da comprimario quasi da protagonista della vicenda nonostante lui sia comparso e sia nato per essere un personaggio secondario un personaggio minore un personaggio che doveva comparire in questa storia poi tranquillamente scomparire già alla fine di questa storia invece si rivolge al pubblico afferma qualcosa al pubblico interagisce col pubblico cerca quasi un consenso cerca quasi un appoggio da parte del pubblico stesso ed è l'ho trovato piuttosto interessante quasi come se come fa notare in realtà anche tito faraci nell'introduzione di questo volume lo stesso paperone e abbia assunto già un ruolo diverso che car bark si fosse già reso conto che paperone era qualcosa di più che non un personaggio secondario anzi assorgeva ad un ruolo di assoluto protagonista e quindi che cosa dire è una bella storia è una buona storia non è indimenticabile è sicuramente importante per il ruolo che ha avuto nel fumetto disney mondiale è una storia che se avete modo di recuperarla è uscita in tante altre edizioni anche ultimamente quindi è abbastanza facile da reperire da leggere anche per scoprire come sia nato anche visivamente un personaggio trovarne le differenze con quello attuale ma anche per riflettere sul significato del natale sul come questo ci cambi se lo viviamo con il giusto spirito e quale auguro migliore quindi se non quello di cambiare di modificarsi di diventare persone migliori nei prossimi giorni cercare di vivere almeno per un po' la magia del natale all'interno dei nostri cuori detto questo quindi i miei auguri ve li ho già fatti noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao grazie a tutti grazie a tutti